Pochi operai per la grande manutenzione che c'è da fare su tutto il territorio rosetano? Le dico subito, Roseto è il secondo comune della provincia di Teramo, 54 km2, 26.000 abitanti. Qui non sono stati più assunti operai dall'incirca 10-11 anni. Quindi noi pensiamo se il bilancio 2019 ce lo permette di fare alcune assunzioni per dare un rinforzo agli operai che abbiamo sul territorio in modo da poter organizzare al meglio le attività che possono essere fatte all'interno del comune. Campo Patrizzi e Via Mazzola, come risolvere queste due grandi problematiche? Allora, noi le problematiche ci abbiamo già pensato con delle ordinanze, le dobbiamo solamente adesso adottare. abbiamo pensato, siccome non è possibile al momento farle all'interno con i nostri dipendenti, stiamo pensando di affidarle a un'impresa esterna. Quindi diciamo in un giro di una settimana, una settimana e mezza, la problematica è risolta. Via Mazzola ha un senso unico dalla 150, no, ripeto, con uscita sulla 150 ed è entrata da Piazza Ungheria. Sì, giusto, stavo un attimino riflettendo sulla cosa perché dopo è stato cambiato all'ultimo momento. Invece per quanto riguarda Marco Polo, lì la cosa, secondo noi, la cosa migliore è quella in uscita dal lungomare, far andare il flusso delle auto, quelli che debbono andare verso Pescara, farla ruotare intorno alla rotonda sud della SS16 e dopo, in modo da evitare eventuali problemi, perché ultimamente ci sono stati pure degli incidenti gravi, a chi magari immettersi direttamente sulla SS16 e girare verso Pescara. Anche e soprattutto per ridurre il grande traffico che c'è in questi ultimi anni. La sicurezza è una cosa fondamentale, quindi noi, diciamo, adottando questa ordinanza, cioè uscendo dal lungomare sud di Roseto, per chi si deve dirigere, diciamo, verso Pescara, è impossibile che si possa immettere direttamente sulla SS16, quindi deviare, diciamo, a nord, fargli fare la rotonda sud della SS16 e dopo dirigersi verso Pescara, in modo da sviare qualsiasi tipo di problematica per il traffico attualmente riportato sulla SS16.